Dal terrazzo di casa ha imbracciato un fucile ad aria compressa ed ha esploso alcuni colpi contro i piccioni. Per un uomo così è scattata la denuncia per maltrattamenti di animali. È successo venerdì mattina in via Margheritone nel centro cittadino di Arezzo. Ad allertare il 112 una donna che aveva sentito il rumore degli spari. In particolare aveva visto un uomo che dal terrazzo di un condominio nei pressi dell'anfiteatro stava sparando diversi colpi agli uccelli. La donna avrebbe anche trovato un piccioni in fin di vita con un proiettile nel petto. Arrivate sul posto le volanti dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico hanno identificato l'autore del gesto. Dopo ulteriori accertamenti e il sequestro dell'arma con cui aveva sparato i colpi l'uomo è stato denunciato per maltrattamenti di animali.